benvenuti ad app per prof un app in cinque minuti appena ovvero una vetrina non un tutorial che introduce sinteticamente strumenti tic per i docenti 3.0 ben trovati a tutti joe.io è una web app gratuita nella sua versione base per creare diagrammi di flusso e altre tipologie di grafici come schemi mappe disegni con figure geometriche e molto altro è decisamente intuitiva grazie al drag and drop ed è facile da usare fornendo un metodo di progettazione utilizzabile da chiunque può essere integrata in google drive per consentire la collaborazione in tempo reale ma andiamo senz'altro a introdurre l'applicazione dalla home page oppure digitando all'interno della barra di ricerca di google selezioniamo joe.io per poter iniziare a creare il nostro diagramma di flusso come prima scelta ci viene chiesto di optare per drive one drive oppure il nostro computer io lo raccomando di utilizzare google drive per avere già salvato reperibile in qualsiasi momento all'interno del cloud i grafici le mappe o i diagrammi di flusso che andremo a realizzare selezioniamo quindi google drive oppure procediamo con device nel caso in cui non avessimo un account drive ci viene naturalmente chiesto se vogliamo creare un nuovo diagramma oppure se vogliamo procedere con l'editing di un diagramma che abbiamo già realizzato selezioniamo creare un nuovo diagramma nella colonna di sinistra abbiamo tutta una serie di modelli che possiamo utilizzare naturalmente ci conviene dare un nome per poterlo recuperare e scegliamo tra business cioè affari vedete che sono già dei modelli già pronti per poter essere utilizzati ognuno di questi elementi sono componibili a nostro piacimento quando andremo a creare la nostra mappa con charles abbiamo i grafici abbiamo tutta una serie di grafici tematici ad esempio per l'ingegneria oppure per altre tipologie ad esempio l'informatica interessanti diagramma di ven per poter procedere con l'insiemistica all'interno della classe oppure suggerisco in questo video di utilizzare il diagramma di flusso selezioniamo uno qualsiasi e procediamo con creare pur presentando moltissime opzioni l'interfaccia di lavoro è decisamente semplice e intuitiva selezioniamo le forme che vogliamo utilizzare per creare il nostro grafico sulla colonna di sinistra scegliendo tra generali miscellane avanzate tutta una serie di altre forme interessante anche l'opzione scratchpad per poter aggiungere qualsiasi immagine vogliamo caricare direttamente al nostro computer spostiamo dentro questa finestra con il drag and drop qualsiasi immagine selezioniamo le dimensioni ad esempio quelle attuali ed ecco che l'immagine è pronta per essere caricata basta selezionarla per poterla aggiungerla e spostarla all'interno del nostro grafico dovunque vogliamo per aggiungere degli elementi ancora con il drag and drop è semplice perché basta selezionarne una spostarla all'interno del grafico e posizionarlo a questo punto sulla destra avremo tutta una serie di opzioni ad esempio cambiare il colore la dimensione delle linee eccetera la possibilità di inserire un testo andando direttamente a scrivere e modificandone con gli editor di testo cui siamo abituati dal grassetto al corsivo alla centratura ancora terza possibilità quella di modificare l'elemento che abbiamo inserito posizionandolo spostandolo girandolo altri elementi andranno aggiunti semplicemente cliccando e spostandoli e collegandoli con delle frecce selezionando il più in corrispondenza delle linee mediane dell'oggetto ecco che in questo caso il nostro elemento è stato collegato procedendo in questo modo possiamo quindi aggiungere togliere o modificare degli elementi per costruire una mappa concettuale vediamo cosa è possibile fare con un esempio già realizzato ecco un interessante algoritmo preparato con gli alunni per identificare un dittongo all'interno di una parola abbiamo scomposto il problema in alcuni passaggi ad esempio leggere la parola cercare se ci sono delle vocali contigue in base alla risposta procediamo con il nostro algoritmo di pensiero fino a quando abbiamo una delle risposte che può essere no non c'è dittongo oppure sì siamo arrivati alla fine e questo è tutto usare joe.io in didattica può rivelarsi davvero creativo non usatelo solo per la creazione di mappe mentali rapide chiare da visualizzare la lim ma integratelo nella vostra progettazione con gli alunni create insiemi per la matematica o il lessico alberi genealogici anche di personaggi storici mappe per la comprensione del testo e l'analisi logica create anche diagrammi di flusso per i vostri progetti le attività di classe insegnate agli alunni a ragionare in modo logico e conseguenziale non c'è coding senza un procedimento logico e chiaro prima ancora di iniziare a programmare per blocchi quali istruzioni dovrà eseguire la vostra macchina o il vostro robot beh insegnate a pensare prima di operare e realizzare concretamente solo attraverso lo sviluppo del pensiero creativo critico e astratto il coding acquista la sua dimensione didattica buon lavoro e a presto grazie a tutti